Buongiorno, sono Michele Ali, organizzatore del Cortina Snow Kite Contest, siamo qui sulla soggivia del Fedare nell'area lagazzola ai Cinque Torri, purtroppo oggi non c'è vento e quindi essendo laggati sempre le condizioni atmosferiche stiamo facendo un po' di freeride con tutti gli effetti che si stanno divertendo molto e in attesa di tornare al piazzale di Passo Jao alle 13.30 per lo Skipper Meeting sperando di riuscire a completare il secondo programma di gare che oggi Mattia Shorton, il Race Director, ha stilato questa mattina. Grazie a tutti! 17.30 Superiore estri fratelli ... ... Giuseppe Sì 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 Sì